bello a tutti ragazzi eccoci qua sul canale di genetic dna e con questo nono appuntamento di remember me questo gameplay sarà veramente breve perché è un gameplay che avevo registrato tempo fa e ho deciso di editarlo adesso visto che ho dei problemi la playstation 3 come avete visto tra l'altro vi aggiorno i problemi sono rimasti gli stessi ma molto probabilmente non è un problema di hard disk ma di console visto che ho eseguito una diagnostica dell'hard disk della playstation 3 con un software ed è tutto a posto invece la playstation 3 continua a dirmi che il file è danneggiato anche se è tutto a posto vabbè domani proverò a mettere l'hard disk nella playstation di un mio amico a vedere se e se il problema è quello dovrò ordinare una console nuova pace quindi 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 dove cazzo ero rimasto qua nella bastiglia devo trovare madame e che cazzo è sto coso beh diciamo che questo gameplay sarà breve quindi sarà sui 8 minuti anche perché non me ne sono rimasti molti di parti già registrati a vola quello pure a bene 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 o che cazzo era è proprio un bel periodo del cazzo è un peccato è un peccato è un peccato Ui E dai esplori anche tu E togli quello scudo, stroncio Ah no, ha tolto il tuo scudo di merda Hmm Lura, lura, lura No, non posso usarlo Chi è? Oh Da che parte si passa? La 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 Ah ok, me ne ho aperte La pastiglia Ok, le sale interrogatorie devono essere da questa parte Sì Sì Sono qui? Non ce ne sono? Ciao amico Allora sarà qui No il mio amico Piccolo sorcetto Ti insegnerò io il vero potere dei giochi di memoria No sorcetto meno me lo dice Capito? Zoccola 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 E quando avrò finito con te Ruba l'accesso ai server della prigione Anch'io alla tua età Allora Dov'è? Mmm Rubiamogli il ricordo Bua mio Mio dio Quello era better quest L'hanno beccato Non farti distrarre Sarà liberato insieme agli altri Segui le remanescenze di madame fino ai server di memoria Va bene va bene Va bene va bene Sì sì no ma va bene Il panopticon Va bene va bene Vabbè ragazzi questo gameplay finisce qui Vi aspetto ai prossimi ciao ciao da genetica di nea Scusate se è breve ma Non ne ho altri Ciao Ciao